Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare perché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia, quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia, eppure adesso salvando questa città proviamo la sensazione assolutamente inaspettata, la sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo, il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere tra metafisico realistico, metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo mettiamo certe fatture metafisiche di De Chirico, è realistico perché anche vista da lontano si sente che le città sono fatte come si dice un po' retoricamente a misura d'uomo, si sente che dentro ci sono delle famiglie costituiti in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Grazie a tutti. Nel 1898 due amici, un certo Edoardo Di Capua e un giornalista Giovanni Capurro si incontrarono e Giovanni chiese ad Edoardo che faceva di bello, dice no devo andare in Crimea a Russia e accompagna papà per certi concerti, dice allora Edoardo visto che ti trovo là e stai senza fare niente, accompagna papà tenendo questi versetti niente sopra e c'è questa carta con dei versetti, dice se ti trovo qui c'è due note a rende e dire che non riesce, può essere facendo qualcosa di sopra. E partì Edoardo, Edoardo va in Crimea, sarebbe la Ucraina di oggi, ad Odessa, ad Odessa con un tempo che non schiarava mai, ero sempre ombrato e lui rimpianceva Napoli. una bella mattina, su Sosa, va parà per i scuri, cioè le imposte, egli esce, è vero un solo, bello, splendente, che faceva luccicare, si dice a Napoli, le onde del Mar Nero, ricettaia, e dice mamma mia che bella cosa, però pensano a questa che bella cosa, si mette al pianoforte e tocco, solfa mi redo, dove mi do sola, si dice tu caspita, che bella cosa, una giornata di sole, è nascetta solo mia, sul mare di Odessa, presentano questa canzone al Ferdinando Bideri, titolare dell'editoria musicale di Napoli, il quale la iscrive a un concorso, la Tavolo Rotondo, che era una rivista sua, e mi fa partecipare al concorso che precedette di poco la Piedigrotta, che poi diventerà Festival della Vacanzora Napoletana, eccetera, e questo sole mio non vince il primo premio, ma è secondo. Ma come spesso succede, la prima, che era Napoli e Bella, che vinse, fu dimenticata, non si sa nemmeno che fine ha fatto, e lo sole mio, invece, partì, per esempio, alle Olimpiadi in Belgio del 1920, c'erano queste Olimpiade, improvvisamente un maratoneta italiano, un certo, ma pare, se ben ricordo, Eugenio Mazzuc, vinse le Olimpiadi, il direttore dell'orchestra, della banda, eccetera, doveva suonare l'inno italiano, l'inno italiano era la marcia reale, perché c'erano il sole mio e il sole mio, non fu mai inno suonato e cantato in tutte le lingue, in tutto nazionale, non ce l'ha fatta, l'ora è rimasta. Però possiamo dire, a questo punto, che il sole mio è una canzone russa, perché ora l'argomento si fa serio, una canzone extracomunitaria. no, 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 perché sì, tengo una moglie e mi fanno un viaggio in Russia e mi nascono figli, in Russia, in Russia, ma la nazionalità, ma la sostanza. Eh, lo so, però, allora, io ho due extracomunitarie in Italia, fanno un figlio in Italia, è italiano il figlio, quindi un sole mio è nato in Russia, a Odessa, quindi è russa. Sì, sì, ma... E questo è un problema? Sì, ma nel sangue scorre... ...lo sangue... ...lo sangue... ...lo sangue... ...lo sangue... ...lo sangue... ...lo vanno da mamma, ma... ...lo si... ...grazie... ...lo sangue... ...lo andes. Grazie a tutti. 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 e a tutti. grazie 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 a tutti. storie e c'era una una performance sul libro delle mille e una notte per cui era una serata abbastanza piena e importante e in quel periodo quando sono arrivato a Sabaudia c'era anche l'amico Faustone Solella che proprio durante la notte all'alba il corrino dovevano girare un video in spiaggia per cui questa esperienza nel giardino fu piena e la ricordo con compositività delle giornate così piene di energia trascorse con diversi artisti persone che uno ci stava e stava bene assieme il giardino era un luogo di accoglienza di convivialità per cui erano giornate che io ricordo con tanta tanta nostalgia a 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 la molto usata in questi ultimi anni accoglienza condivisione fraternità umanità stare insieme condividere insieme momenti e spettacoli condivisione di poesie condivisione di pensieri di musica di quadri di emozioni in una dimensione casalinga in una dimensione in cui stavi a casa eri in casa di una persona fantastica eri in una bella casa in un bel giardino in una bella città vicino a un bel mare tutte queste cose che fanno bene all'anima ecco in tutto questo insieme questo questo condividere questo parlarsi liberamente esprimere dire senza stare lì a pensare a alle importanze alle non importanze essere famosi non famosi affamati o non affamati eravamo insieme era molto bello era molto bello ho un ricordo meraviglioso di quei giorni e ho un cruccio il cruccio che ho è quello che non è poi stato ripetuto e e niente fra l'altro anche da un punto di vista personale per me è stato anche il momento più uno dei momenti più importanti della mia carriera di eh menestrello domestico di poesia ed emozione e tanta gente che non conoscevo che mi guardava con simpatia e per me per me queste cose sono importanti molto importanti volevo ringraziare ancora una volta tutti quanti per avermi invitato per essermi diventati amici un caro abbraccio a tutti rischio raschio rosico rosicchio giorno dopo giorno metro dopo metro la conquista della meta la conquista della meta eppur non cado no vacillo vago sobalzo zoppico inciampo ciondolante ciondolante vado tutto sommato tutto sommato vado vado unIV il tro il , più Grazie a tutti. 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 Parole di Pasolini. Grazie a tutti. 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 quelli che... a montaggio, che diventa... che... che... a tutti. grazie a tutti. a tutti. che... 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 ... che... che... e... tutti... che... e... con... con piacere... per... per due giorni... che... 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 ... che... 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 ... ... ... ... che... 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 che...